Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Giochiamo con la scienza. Oggi parleremo di astronomia, ed in particolare impareremo a leggere il cielo. Di notte, quando si vedono le stelle, il cielo diventa un grande libro illustrato. Basta guardare in alto per vedere un cavallo, un cigno, un leone, un'aquila o uno dei personaggi mitologici come Perseo, Cassiopea o Orione. Tutte queste figure sono fatte di stelle, e trovarle è un gioco meraviglioso. Per poter fare questo ci aiuteremo con una mappa stellare oppure utilizzando un astrolabio. Proprio come quello che potrete scaricare dal link che trovate nella descrizione. In questa mappa sono presenti tutte le costellazioni che sono visibili nel nostro emisfero. Ovvero l'emisfero boreale. Al centro di questa mappa è situata la stella polare che come ben sappiamo indica il nord. La stella polare è un astro non molto luminoso che si trova isolato in una zona del cielo eccezionalmente priva di altre stelle luminose. Proprio per questo motivo non è molto facile individuarla in cielo. Vicino alla stella polare vi è un raggruppamento di stelle molto luminose e facili da individuare per la loro particolare disposizione che riproduce una specie di pentolino. Si tratta di sette stelle in cui i greci antichi avevano individuato un'orsa. In greco Arctos. Da cui il nome di Artico attribuito all'emisfero nord. I latini invece vedevano un carro le cui stelle. Con il loro lento ruotare intorno alla polare, ricordavano sette buoi da lavoro. Ossia Septem Triones, da cui il termine Settentrione. Si tratta appunto della costellazione dell'orsa maggiore o Gran Carro. Questa costellazione è un ottimo punto di partenza per rintracciare molte altre stelle grazie a pochi e semplici allineamenti. Se uniamo con una linea immaginaria le due stelle del bordo del pentolino e prolunghiamo di quattro volte e mezza la distanza che intercorre fra questi due astri si raggiunge proprio la stella polare. Quest'ultima rappresenta il timone di una costellazione simile al Gran Carro ma di dimensioni più ridotte e formata anch'essa da sette stelle molto meno luminose di quelle della costellazione maggiore. Quasi opposto all'orsa maggiore rispetto alla polare si trova un raggruppamento di cinque stelle dalla caratteristica forma WOM chiamata Cassiopea. Cassiopea è una costellazione molto evidente ma che non offre punti di riferimento per altre stelle. Partendo sempre dal Gran Carro è facile invece individuare altre costellazioni e stelle molto luminose. Prolungando il bordo superiore del pentolino e proseguendo nella direzione opposta a quella del manico si incontra Capella, la Capretta, la stella più luminosa della costellazione dell'Auriga. Dirigendosi invece dalla parte opposta a quella in cui si trova la stella polare si arriva a Regolo, dal latino Regulus, Reuccio, nella costellazione del Leone. Seguendo poi la diagonale del nostro recipiente, sempre nella direzione opposta a quella del manico, si arriva a due stelle molto brillanti, Castore e Polluce, che formano la costellazione dei gemelli. Una linea curva che prolunghi le tre stelle del manico porta invece ad Arturo, la stella più brillante della costellazione di Bote, o Bifolco. Proseguendo nella stessa direzione verso il basso, proprio vicino all'orizzonte, si raggiunge Spica nella Vergine. Infine, alte nel cielo estivo, appaiono tre stelle molto luminose che formano un grande triangolo. Sono Vega, in piena estate proprio sopra la nostra testa, nella costellazione della Lira, Deneb, in quella del Cigno con la sua caratteristica forma a croce, e, Altair nell'Aquila. Esse formano il cosiddetto triangolo estivo, che balza subito all'occhio se nella bella stagione si guarda in alto e verso sud. L'altra costellazione che serve per individuare stelle e costellazioni però solo nel cielo invernale, è Orione. Orione è una costellazione molto grande. Dalla forma complessiva a Clessidra, impossibile da non vedere rivolgendo, nelle notti invernali, lo sguardo a metà del cielo verso sud. Le due stelle più luminose del raggruppamento sono Betelgeuse, in alto a sinistra di colore rosso-arancio e, Rigel, in basso a destra di colore bianco-azzurro. A metà distanza fra questi due astri si notano tre stelle ugualmente luminose e allineate in posizione un po' inclinata. Sono gli astri che costituiscono la cosiddetta, Cintura, di Orione. Prolungando la linea che unisce le tre stelle della cintura si giunge verso il basso Assirio. La stella più luminosa del cielo sita nella costellazione del cane maggiore. Prolungando verso l'alto si arriva ad Aldebaran. L'occhio sanguigno del toro. Vi starete sicuramente chiedendo cosa rappresenta la linea rossa che attraversa il cielo. Questa linea immaginaria è, l'eclittica. Ovvero il percorso apparente che il Sole e tutti i pianeti compiono in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste. Questa fascia racchiude tutti i dodici segni zodiacali. La parola, Zodiaco, significa, Cerchio animale, o Cerchio degli animali. In quanto gran parte delle costellazioni che vi figurano sono, animali, uomini o, esseri per metà animali e metà uomini. Bene, per il momento è tutto e vi do appuntamento ad una prossima puntata di, Giochiamo con la scienza. Se non lo avete ancora fatto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere avvisati dell'uscita dei nuovi video.